L'amore. Quella sensazione meravigliosa e complessa. La sensazione più incredibile che possa esistere. Basta uno sguardo e annulla ogni distanza. L'amore a volte ci fa piangere, a volte ci fa arrabbiare, a volte ci fa confondere. Ma l'amore è innanzitutto una scelta. L'amore richiede il mettersi in gioco, correre dei rischi, sperimentare, attendere e lasciarsi andare. Innamorarsi è una scelta che ognuno di noi fa giorno dopo giorno, che ti porta in luoghi che non conosci. Richiede tempo, impegno e vocazione. Ti mette alla prova, ma ti fa sentire unico. Ed è così che ci sentiamo noi quando siamo in cucina. Fare un viaggio senza innamorarsi profondamente equivale a non vivere. E a noi tutto questo ci fa sentire vivi. Buon San Valentino da tagliamare. Grazie.